Chi contro HJK termina con un pareggio 2-2 Questa partita di ieri di Conference League si tratta di calcio ovviamente Non cercare di spiegarmi, o meglio cercare di sapere da me cosa è l'HJK Perché francamente non so svilupparvi questo acronimo Come non so svilupparvi l'acronimo chiamato KI accentata Comunque 2-2, un pareggio giunto ieri Andiamo a vedere i calcchi di compie Il primo per quanto riguarda il KI arriva di Arnie Fredersk-Bilberg Su rigore nel secondo tempo, poi Allur Hanson sempre nel secondo tempo Da segnalare un cartellino rosso per chi ha uscito dal gioco e stato René Johnson nel primo tempo L'HJK fa entrambi gol a firma di un unico giocatore, si tratta di Lee Erwin Uno arriva nel primo tempo, uno nel secondo in fase di fin gara, di fine partita Va bene? Dobbiamo riconoscere che il KI si impegna molto E le statistiche promuovono appena il KI rispetto all'HJK Più possesso di palla, più bravura nei passaggi Un fraseggio maggiore rispetto all'HJK Bene, 2-2 insomma, un pareggio bello e buono Vi ringrazio per l'ascolto e per la visione di questo video di oggi utenti di Youtube Mi raccomando iscrivetevi al canale, commentate ed una buona giornata a voi tutti Ciao